Ragazzi, se il buongiorno si vede dal mattino, questa sarà veramente una pessima giornata perché io mi sveglio, sto abbastanza riposato alle 7 da mattina dopo 6 ore di letto e perché a fine sì, a luna ero ancora sveglio alla fine e sento tipo, sono di sotto le coperte, sento pum, un tuono schifoso e adesso sta piovigilando ma prima tipo diluviava infatti vado ad aprire ai gatti, sembra un cartone animato era tutto spalacchiato questo qua, poverino, completamente zuppo e niente ragazzi, si va al lavoro, si va al lavoro io sono di una stanchezza immane ma penso che oramai sia diventato l'incipit del canale il fatto di non essere mai fully reposated, fully rilassated e quindi va bene così almeno non sono come questo poveretto che è in bici sotto sta pioggia mamma mia che capelli vabbè ragazzi, questa è la vita con calma, si va al lavoro oggi sarà, spero, una giornata un pochino più rilassata cioè ho un aperitivo ma mi sono tagliato qua, vedendo qualcosa ah, mi sono tagliato, come ho fatto e sarà un pochino più rilassata, si spera ma vallo a sapere vallo a sapere anche perché la fregatura è sempre dietro l'angolo ragazzi, ragazzi adesso noi non so se avete presente, questa è la strada che di solito quando vado a fare le passeggiate vi porto con me, faccio sempre a ritroso, cioè dall'altra parte cioè da qua, in qua, verso di me e qua sulle torricelle ci sono tutti questi percorsi che potete osservare anche da questo lato in questo lato del bosco che partono essenzialmente da Porta Vesco e vanno su fino alla montagna, fino dove si vuole io generalmente arrivo direzione Amen e poi inizio a scendere verso Val Donega e quant'altro ragazzi, questo è esattamente quello di cui vi stavo parlando qua c'è il demonio che sta scendendo ma che storia, vedo meglio guardando dallo schermo da videocamera ma com'è possibile? cioè, ho appena scoperto una cosa pazzesca guardando dallo schermo si vede meglio che guardando dal vivo, ragazzi ma, ma, cioè, è vero più distante, vi giuro boh, chissà come mai oh ragazzi, che bel tempo, che bel tempo estivo non vedevo l'ora abbiamo finito di lavorare, stiamo tornando a casa e un po' di cose da fare editare tutte le varie cosette tutte le varie situazioni i video, le foto e quant'altro sarà il mio canale che è del lavoro ieri poi aperitivo poi cena, stasera mi guardo un film e vado a letto perché I'm devastated a dir poco sto morendo mannaggia mannaggia ragazzi stanco morto dir poco stanco morto dir poco comunque sto facendo il pieno perché in questi giorni prezzo medio regionale vabbè perché in questi giorni insomma la dovrò usare poi questo weekend ci sarà una grande festa in lessinia in montagna abbiamo noleggiato con degli amici una malga e quindi ci spacchiamo non penso che bella roba sinceramente però l'importante è l'avventura e io questa volta vorrei provare una cosa di diverso perché io di solito dormo in tenda in questa occasione stavolta voglio dormire in macchina quindi ho già il materasso ho già tutto pronto perché l'ultima volta che ho usato sto materasso è stato ottobre dell'anno scorso visto che l'ho pagato 90 euro mi viene anche il caso di dire che dici la proviamo? e quindi questo è il piano dormirò in macchina comodissimo anzi probabilmente ci sarà un bel freschino quindi temperatura top a tal punto che mi porterò il piumino anzi il piumone nell'italiano quando sei stanchi ragazzi l'italiano va dove vuole va dove vuole e e niente quindi queste per adesso sono le le grandi novità della cosa nulla di più nulla di meno vediamo quanto spendo il metano di solito sono 18 euro ok ragazzi aperitivo fatto ora torniamo a casa diamo da mangiare alle bestiole e poi a me sto morendo di fame stasera facciamo patate e hamburger spero ci sia del pane ne ho visto che c'è un po' secco quindi penso che in questi casi ragazzi quando avete pane secco mettete un po' dell'acqua c'è poco bagnate leggermente mettete in forno e dopo dovrebbe venire relativamente buono abbastanza buono niente ci aggiorniamo dopo ragazzi stasera non esco neanche morto mamma mia la luce la quantità di cose che ho fatto oggi ragazzi allora oltre a aver sistemato tutte le foto e cose di ieri sono riuscito anche a editare dei video e poi un pochino di relax ho cucinato un sacco di cose buone allora io sono ragazzi delle patate e quindi sono venute benissimo e inoltre ho fatto un hamburger di scottona buonissimo buonissimo con tipo il sale al limone spaziale niente ragazzi io dopo di questo picco aggiornamento ora come potete immaginare sono a letto e ho intenzione di rimanerci quindi mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani per un prossimo video ricordatevi che il dio che cosa c'è qua punti schifosi mi ha morsi un insetto mi ha morsi un insetto che cazzo è sta roba ricordatevi il dio algoritmo esiste e prevale su di noi e quindi sfambiamolo con i commenti con i likes ci vediamo ciao ragazzi ciao